eh in drive potete andare ah in drive si vero qua ma si si mai usava e la è questo qua un telecomando si compra da 900 tu hai? visto nel mio lo scatto a 2 secondi la funzionava se c'è la funzionazione anche da lui credo che sia il mio che sia non lo vuole sapere allora facciamo che tu non ce l'hai pure il telecomando che ti prendi? a te questo lo mettiamo su youtube ci presentiamo con i nick ma io non ce l'entro nick cbr 600 picciuzzo picciuzzo ma è la stessa dell'alfa 700 c'è lui la batteria dell'alfa 700 è uguale o quale? scusa ma come questa? anni anni stessa batteria stessa batteria stessa batteria Qibo Qibo Cibo Cibo qua c'è una cosa da quibo